Lo sportello del cittadino è presso la baia del tramontone a Taranto. La nostra operazione mediatica Decoro Urbano è questa bellissima iniziativa dell'associazione Siamo Taranto in collaborazione con Chima Ambiente Amiu per rendere, per bonificare quest'area. Una giornata faticosa di raccolta e tra i partecipanti, i volontari, mi hanno segnalato un cittadino che non è italiano. Da Inghilterra e tu sei qui perché ti piace questo posto e tu stai lavorando con i nostri amici per rendere meglio questo posto. Dice che è qui, non conosceva la zona ed è con questo gruppo fantastico, come fantastico il posto ed è un gruppo molto motivato. E' la prima volta che tu sei qui? No, 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 perché i miei bambini originano da qui. Non è la prima volta che sta qui, che viene qui perché i suoi familiari sono appunto originari della zona. E questa mattina funziona, 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 funziona. Oggi lavoro, 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 ma anche gioia, soddisfazione. Sì, abbiamo due buoni amici, sono proprio qui. C'è due amici qui, amiche. E poi abbiamo conosciuto alcune persone che stavano solo prendendo il sole a la piazza e abbiamo parlato con loro. E conosce e incontra anche qui altre persone della zona, diciamo, come dire, compagni di giornate di mare. E credo che ti amo Taranto e ti amo Italia. Sì, sì, ovviamente, sì. E mi piace vedere la zona pulita, non dolce, pulita. Dice la zona deve essere pulita e non sporca. Ok, buona fortuna. Grazie molto. Buona fortuna. Grazie mille, grazie. Grazie mille, grazie. Grazie mille, grazie.